Grazie Presidente. Dalla flebile voce del consigliere De Priamo abbiamo sentito le motivazioni di questo ordine del giorno che hanno presentato che riguarda in prima battuta il decoro e la pulizia della scalinata del Palazzo della Civiltà Italiana, la verifica dell'integrità e il buono stato di conservazione sempre della scalinata. Io ricordo che la scalinata è parte integrante per quanto riguarda il Palazzo della Civiltà Romana, come viene comunemente chiamato. E chiaramente ricordiamo che il patrimonio dell'euro è in mano a eurospa, ha detto bene il consigliere De Priamo che chiaramente eurospa è una partecipata, però ricordiamo che è partecipata al 90% dal Ministero, dal MEF dell'Economia e Finanza e solo dal 10% dal Comune di Roma. E' chiaro che bisognerà fare in modo che sia il Ministero dell'Economia e delle Finanze a dare supporto all'euro e quindi anche da un punto di vista dei soldi economico, proprio per aggiustare la scalinata, che io ricordo che sono più di 10 anni che è transennata in più parti e quindi alla quale non viene dato aiuto, nonostante chiaramente i numerosi solleciti fatti dal Municipio Nono. Però sappiamo benissimo che l'euro spa ai noi è per il 90% in mano al Ministero dell'Economia e Finanza. Noi voteremmo no a questo ordine del giorno, scusate, proprio perché l'intervento dovrebbe essere fatto magari più ad alti livelli per quello che ho appena esposto. Grazie.